Un obiettivo molto importante per risolvere i problemi di traffico è il trasferimento dalla macchina privata al trasporto pubblico e il tram si inserisce benissimo in questo concetto. Si inserisce in un concetto più ampio che riguarda la riorganizzazione delle infrastrutture stradali, che riguarda il riorno della rete dei servizi urbani di Bolzano, che riguarda soprattutto la parte di accesso dall'Oltradice e dalla linea meranese, dove c'è il nodo di interscambio di Ponte Adice, per poter o salire sul tram e quindi ridurre il traffico di mobilità da questa parte, oppure continuando sulla linea ferroviaria fino a Bolzano. Grazie 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 Grazie